Il 56% dei giovani che fanno l'impresa non ha la famiglia di imprenditori, il 64% ha avviato l'attività ex novo e solo il 25% lavora nella azienda familiare. Questo è un buon mito che se non arrivi dalla famiglia di imprenditori non puoi fare l'impresa, non è così. E come li trovano i soldi giovani per cominciare la loro intrapresa? Questo continua a rimanere un tassello importante, è un problema da avere qualcosa di avere. Il sostegno finanziario per avere l'attività per...